Ragazzi, oggi è un video diverso da quelli che sono soliti su questo canale. È un video che parte da una riflessione che un mio carissimo amico ha postato sul suo Facebook e io volevo condividerla con voi perché penso che sia importante nei confronti di questo signore qui. Per chi non lo sapesse, questo signore è stato il presidente della Nintendo dal 2000 ad oggi e quindi noi vorremmo ricordarlo con questo piccolo tributo. Grazie. Io tengo 30 anni e forse la dovrei finire. Molti di voi magari mi trovano simpatico, altri mi schifano perché sono sempre fuori dai gangari. Ma la verità è che ho uno stragrande debito nei confronti della Nintendo. Quando ero piccolo avevo pochi amici perché, beh, facevo schifo al cazzo. E mi divertivo con i videogiochi. La Nintendo mi ha dimostrato che è possibile però essere un supereroe con la panza e i buff. E' possibile sconfiggere i cattivi buffi e salvare i principesse che poi alla fine neanche te la danno. Cioè praticamente la mia vita. E' possibile essere Mario così. Perché Super Mario vive in un mondo delineato da pochi tratti decisi. Denti, spuntoni, conchiglie, gusci. E' il mondo in cui voglio vivere. A me bastano 8 bit. Vivo a 8 bit alla volta. Ogni giorno mi accorgo che inconsciamente mi sposto verso questa direzione. E mi tocca pagare il mio tributo di irrazionalità per restare lucido. Un paio di giorni fa è morto questo tizio in foto. Era il presidente di una compagnia multimilionaria che sicuramente conoscete se state vedendo questo video. La Nintendo. Faceva le pubblicità per la sua compagnia coi baffi finti, coi caschi di banane, coi cappelli buffi in testa. Volevo ringraziarlo pubblicamente per avermi concesso la possibilità di una vita che io voglio vivere. Grazie a tutti.